Allora, Filippo Crea, una bella partita, una partita vera abbiamo detto in Telecronaca, insomma le tue impressioni? Beh, diciamo noi è la prima volta che ci vedevamo con tutti quanti, devo dire che è stata una gran bella partita, abbiamo giocato molto bene e si vede che sappiamo che tu giocherai a pallone quasi tutti quanti, insomma, quindi ci siamo divertiti, dai Anche perché dall'altra parte c'era una squadra che comunque gioca nella terza divisione del campionato universitario americano dunque non si trattava di una squadra di sprovveduti, sul piano atletico soprattutto si sono fatti valere Soprattutto perché insomma io ho cominciato a essere una certa età, tutti i ragazzini che corrono molto, magari giocano molto scolasticamente in confronto magari a noi italiani che giravano palla e non puntavano mai l'uomo, però una buona squadretta con molta intensità Ecco, diceva Andreozzi, è stata soltanto la prima di una lunga serie, ci auguriamo, di iniziative però ci sono anche dei margini di crescita notevoli, no? Perché poi da un punto di vista pure dell'aggregazione ecco, sono iniziative che possono soltanto far bene al movimento e insomma vi siete divertiti? Sì, è una bella cosa, come diceva poi se veramente la cosa andrà avanti pure per fare qualche cosa internazionale sarà molto divertente e carina da fare, farebbe molto piacere Grazie allora Filippo Crea Grazie anche a voi, buona serata